Entusiasmo, felicità e una sconfinata passione per la pallacanestro Varese. Sono queste le sensazioni che si sono respirate al Palawirpool ieri pomeriggio, quando la Sunrise Media, casa editrice del match program ufficiale della Cimberio e di VareseSport.com, ha presentato l'album delle figurine della società di Piazza Montegrappa. Presenti al palazzetto, oltre ai giocatori e allo staff della prima squadra, una grandissima quantità di ragazzi e bambini delle giovanili biancorosse, che hanno sfruttato l'occasione per accaparrarsi le prime copie dell'album con relative figurine, facendosele autografare dai propri beniamini. Io ho l'album completo dell'anno scorso, devo dire che sono stato aiutato dalla mia compagna Ilaria, che ha fatto scambio di doppie con tutti i bambini qui di Varese, credo. Ci è piaciuto e poi abbiamo anche cercato di farlo firmare da tutti i ragazzi, quindi abbiamo un album completato e firmato dell'anno scorso. A noi tanto ci alleniamo sempre a porte aperte, chi vuole può venire qua a vedere i nostri allenamenti sempre, sono contento se ai ragazzi piacciono, si divertono e poi anche per noi comunque è stimolante avere del pubblico. Allenarsi in una situazione asettica, di silenzio assoluto, qualche volta c'è bisogno, provendo di preparare certe cose. Però l'ultima parte dell'allenamento che è il 5 contro 5, giochiamo tutto campo, penso che sia bello sia per i ragazzi che per i ragazzini che vengono a vedere. E' bellissimo perché io pensavo un album solamente con quelli della prima squadra, invece ci sono dentro tutti e quindi i bambini io penso che sia un bellissimo ricordo, io in tanti anni non mi ricordo un'iniziativa del genere dove fosse coinvolto tutto il settore giovanile, io penso che farsi l'album e tenerselo dell'anno in cui hai giocato e se stai qua da più anni, avere questo ricordo sia molto bello. Bellissimo, veramente, e anche oggi questo che è il nostro futuro vero, perché poi alla fine stiamo parlando dei nostri ragazzini, guardate qua i genitori hanno avuto la bontà e la volontà di portarli qui alle sette e mezza di sera per farsi firmare dai nostri giocatori questi bellissimi album. Ormai giunti alla quarta edizione consecutiva, stiamo entrando nella storia quasi come la Panini, bellissimo, veramente, tanto entusiasmo dai bambini, la solita grande disponibilità dei nostri ragazzi, per cui veramente questo, al di là di tutti quelli che sono gli aspetti sportivi di una stagione magari con alti e bassi, una stagione non facile, però queste sono le cose che poi ti riconciliano con la palacanestro e con la voglia veramente di tornare a fare grandi cose, soprattutto con questi bambini e con i giovani.